Giulio com'è le lettere? ASMR ASM A A ASMR ASMRA Come siete scemi Come Ninna Nanna Ma sei l'incoglienza? Steiner Se questo video fa chiuso i miei viaggi a New York che ho fatto con i miei risultati Steiner, tazzino Ssss Aio I'm losing my mind just a little Pronti a ridere e vi prego superiamo i 20.000 like E Tudor piangerà Oggi su Instagram mi avete chiesto di fare una reazione ai video ASMR Ma cosa diavolo sono i video ASMR? Tutte quelle lettere lì Così sono andata su Youtube a cercare un po' Ho trovato questi In pratica sono video rilassanti che dovrebbero aiutarvi a dormire E così io e Tudor abbiamo deciso di farne uno per voi Io forse voi non guarderei questo video Ciao a tutti Ciao a tutti Non è molto rilassante questo video Che video se lo fa? Ciao a tutti Ssssshh Ciao a tutti Chiudi la porta e devi finire Sì Mi faremo Il tazzetto Ciao a tutti Ciao a tutti Questo è È il gatto Sssshh Questo è il nostro video Giulio com'è le lettere? ASMR 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 Come siete scemi Questo è Andre ma poi adesso uscio qua Passa il tuo nome Andre Allora questo è un video ASMR Lo sento manco io E praticamente Lo userete per addormentarvi Noi faremo Noi faremo dei suoni Che voi userete Come Ninna Nanna Ma sei rincoglionata? Sssshh Siete pronti perché ora Dovete rilassarvi Stendervi nel led Ma sei rincoglionata davvero? Dovete rilassarvi Stendervi Sssshh Questo video è stato chiuso I miei viaggi a New York Che ho fatto con i miei disori Stai rilassato Rilassatevi Mettetevi una coperta E andate poi sul mio canale Per vedere i miei video di New York Sssshh E che puzza di merda Andre Diti chiudere la porta del bagno Prendete un bel cuscino E poi Giulio Eh Sta zitto Dimmi Sta parlando a bassa voce Perché le sue caccole Devono addormentarsi con questo video Sono io Schifo Allora questo video servirà Per farvi addormentare In una maniera dolce Ehm Sarà 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 senza tagli Come senza tagli? E voi E voi E voi Shhh E voi lo userete per addormentarvi Siete pronti? E Iniziamo subito Shhh 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 Rilassatevi 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 La salida Che giù Rilassatevi L'ep vedevato a casa Ci vediamo domani Shhh bad Esi sono miei No, non fare il rumore. Erano i miei soldi. No, non fare il rumore. Questa è un'incogionita fragica, ragazzi. YouTube da cambiare. Ascolta. Dormite. Dormite. No, che scuiccia. Mettelo giù. Ma ancora? Piagano con i cassetti. È il mio video a smarrare. Toto. Oh, basta. Bravo, dammi lo scoccio. Piano, piano. No, no, no. No, 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 no. Tocco, no, 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 no. Pisss. 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 Ragazzi, per questo video tutto quanto, volevamo fare un video normale, ma si è dimostrato ad essere un... Pisss. 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 No, 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 no. Bella raga. No, 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 no. 100 3 Pisss. Pisss. Deve urlare. un pochico perché? no, è tutto bello rilassatevi vai via nina nanna nina o no vi state rilassando mi dice un po' che ci sono le batterie dentro un megacono ci sono le batterie e ti ha detto tanta fortuna vai via con quella suona piano no non venga a bere questa sera perchè sto a casa di Sabrina e stiamo facendo un video dove lei fa sentire i rumori del suo joypad e devo fare il piano perchè le sue cucciole devono addormentarci sei ricoglionita ma sento la gente non vuole vedere te che tocchi ci vuoi vedere zitto lo voglio vedere questo qua è il video di quella rincoglionita che ha fatto questa roba con gli slime non lo so ragazzi perchè mi ha chiesto vieni che facciamo un vlog divertentissimo io ho detto ma si dai vengo volentieri invece stai facendo sta cosa cosa stai facendo questa penna rilassami metta zitto devi fare i contenuti non devi rilassare la gente non devi rilassare la gente ma che altro che rumore fai con queste cin cin poi non ci vieni non ci vieni non ci vieni non ci vieni sei bravo mi cucina sei molto sull'amera non ci vieni mi cucina non ci vieni no non 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 ci vieni Tappo 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 No, c'evasse. Settevi c'etti. No, no. No, no. No, no. Baby, why don't you just beat me in the middle? I'm losing my mind just a little. So why don't you just beat me in the middle? In the middle. No, 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 baby. Why don't you just beat me in the middle? In the middle. I'm losing my mind just a little. Non dormono più. Non sono manco arrivato a questo punto del video. Aspetta, shh. Non ti sei rilassato? Questo è l'auto. No. Ok. Quindi? Quindi se arriviamo a 20.000 like ne facciamo un altro. No, ti sto prendendo in giro. 20.000 like. E ne facciamo un altro di questo fantastico video. Sabrina. 20.000 like. E vi farò una super nina nanna per voi. Grazie mille per aver visto questo. Non invitarmi mai più a fare un video divertentissimo sul tuo canale. Grazie. Trovate il canale di tutto in descrizione. Vi prego andate a vedere i suoi video con i genitori a New York. No. 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 Grazie.